Ben trovati, ben trovati con un nuovo appuntamento della nostra vetrina dell'auto e benvenuto caro Daniele, sono felicissima di essere qui a tuo fianco quest'oggi. Lara, per me è un piacere immenso, ci troviamo ospiti di questa struttura meravigliosa, siamo a San Zeno Naviglio, via Armando Diaz 22, una delle cinque sedi. Una delle cinque sedi del gruppo Carmeli che è una realtà sulla città di Brescia e provincia assolutamente consolidata, oggi faremo un po' di salti da una sede all'altra perché abbiamo intenzione di farvi vedere tantissimo prodotto, abbiamo delle bellissime Nissan, abbiamo Renault, abbiamo Dacia, abbiamo Usato, Multimark, insomma abbiamo veramente tanto per cui non staccatevi dalla televisora, rimanete incollati sul vostro divano, carte e penna pronti a prendere appunti perché avremo delle cose sensazionali e delle offerte imperdibili. Guarda, sai cosa faccio Daniele? Ora mi sposto anch'io, inizio a prendere anch'io appunti, carte e penne in mano perché davvero ci saranno un sacco di promozioni. Faccio mettere il tuo telefono così se uno perde qualcosa chiamate direttamente lei. Partiamo? Via! Ok, partiamo subito con questa Nissan Juke, vi farò vedere delle proposte particolari perché soprattutto per quello che riguarda Nissan ci sono dei prezzi assolutamente unici con delle condizioni uniche, per cui veramente prendete nota. Partiamo da questa Nissan Juke, questa è una vettura nuova da immatricolare. Pensate, ho questa scheda, l'ho riletta due volte perché anch'io non pensavo fosse veramente così. Da un prezzo di listino di 22.600 euro, qui dal gruppo Carmele, soltanto dal gruppo Carmele, la potete portare a casa con 17.900 euro più chiaramente immatricolazione IPT. Stiamo parlando di un'autovettura nuova, siccome siete tutti più bravi di me in matematica, fate 22.6 meno 17.9 e vedete qual è il vero risparmio che potete avere. Questa è chiaramente un'offerta promozionale, un'offerta legata all'accensione di un sistema di finanziamento che vi permetterà di pagare in piccole rate l'autovettura e dei sistemi assicurativi che vi possono garantire anche il valore nuovo. Tenete conto che queste autovetture hanno tutta una serie di accessori che io non vi dirò perché non vi piace dire gli accessori, ma che potete... zero aziendali, vetture nuove, per cui prestate veramente molta attenzione. Partiamo da questa Nissan Qashqai, è una versione 1.5 DCI 110 CV Business, è un'autovettura che avrebbe un prezzo di listino di 28.500 euro, dal gruppo Carmele, solo dal gruppo Carmele, se sottoscrivete la proposta finanziaria con i servizi assicurativi, avete la possibilità di portarla a casa a 20.250, esclusa l'immatricolazione, esclusa l'IPT, 20.250 al posto di 28.500, se la matematica non mi inganna, sono 8.250 euro di risparmio soltanto per queste autovetture, per cui non perdete l'occasione di venirle a vedere, toccare, provare, magari portate anche il vostro usato perché ve lo ritirano sempre molto volentieri. Nissan Micra, qua parliamo di una vettura a 90 cavalli, è una Plus, nuova da immatricolare, questa autovettura anche lei, 19.150 a prezzo di listino, super offerta gruppo Carmele con sottoscrizione del servizio finanziario assicurativo, la potete portare a casa con 15.800 euro e vi sfido a trovare a 15.800 euro una Micra come questa, ancora nuova, nei matricolari. Volete una vettura a chilometro zero? Vi piace in particolare la Qashqai, cavallo di battaglia di casa Nissa, abbiamo questa bellissima Qashqai, 1.5 DCI 115 cavalli Tecna, non vi dico gli accessori perché andatevele a vedere su www.gruppocarmele.com, se no dovrei fare io il vostro lavoro, non mi sembra giusto. Questa è una vettura proposta a 23.950, pensate che il listino ufficiale è di 34.150, venite qua, la vedete, la provate, date dentro magari il vostro usato, chiedete di finanziarla con dei servizi assicurativi che vi garantiscono anche il valore nuovo e la potete portare a casa a 23.950 invece che 34.150. Chiudiamo questo reparto particolare con un'autovettura che a me particolarmente fa impazzire perché veramente, bisognerebbe essere sulle strade americane. Vi faccio vedere questa, nel particolare l'offerta è però una versione un pochino più allestita, un 2003 DCI 4x4, 160 cavalli, double cab, a centa. Questa non è una centa, la centa è molto più bella. Qua abbiamo un'autovettura che ha un prezzo di listino di 31.800 euro, con la sottoscrizione del piano finanziario e del piano assicurativo potete risparmiare, faccio io il conticino, vediamo se sono bravo, 31.8 potete arrivare a 29. Non vi faccio il conto perché non vorrei fare butte figure, poi mi chiama la mia professoressa di matematica e mi dice se è un asino in tutti questi anni non ha imparato niente. 20.900 euro per questa vettura a chilometro zero immatricolata a giugno del 2019. Daniele ci troviamo ora nell'outlet multimarca di Gruppo Carmeli, io vedo che tu hai già preso confidenza con una delle vetture che stai per presentare, tra l'altro qui da Gruppo Carmeli ci sono ben oltre 2.000 auto a chilometro zero, quindi veramente una scelta vastissima. Se non trovano l'auto qua veramente hanno dei problemi. Ma me le presenti tutte 2.000? Mi metto comoda? Voglio andare qua, c'è anche il vento che ti arriva e che ti sconfille i capelli. Presentiamo quello che possiamo molto velocemente perché 2.000 sono veramente troppe, però quelle che ho scelto per voi in questa particolare parte del salone sono quelle top che non potete perdere. Partiamo da questa, questa è un'autovettura usata del febbraio 2018, ha percorso solo 22.500 km, stiamo parlando di una BMW 420 di cabrio allestimento M Sport, l'auto del momento, l'auto della stagione. Un'autovettura che pensate ha un listino di base di 75.000 euro proposta nell'outlet di Gruppo Carmeli a un prezzo estremamente particolare, 37.900 euro, chiaramente sottoscrivendo un piano finanziario con un'assicurazione inclusa. Se fate due conti è uno sconto del 47%, non potete perdervi assolutamente questa cabrio. Adesso andiamo in casa Fiat, casa Fiat con uno dei suoi cavalli di battaglia, Fiat 500X, 1.000 benzina, 120 cavalli, questa è una versione cross, autovettura a chilometro zero del 2019, chiaramente tutte le autovetture sono garantite con la garanzia ufficiale della casa, autovettura con una serie di accessori che non vi sto a elencare, andatevele a vedere su www.gruppocarmeli.com, autovettura di listino 28.159, proposta Gruppo Carmeli con sottoscrizione finanziamento e assicurazione, 17.900 euro e un 37% di sconto, segnatevi 37%. Vi piacciono le Jeep? Io sapete sono innamorato di questo marchio americano, ormai italo-americano direi, parliamo di una Jeep Renegade, anche lei 1000, è una versione limited, questa in particolare è un granite crystal, metallizzato, autovettura a chilometro zero anche lei del 2019, proposta imperdibile, pensate da un listino di praticamente 29.000 euro, viene proposta dal Gruppo Carmeli a 18.700 euro, è uno sconto del 35% sul prezzo di listino, chiaramente con la sottoscrizione del piano finanziario. Vi parlo sempre di questo piano finanziario perché Gruppo Carmeli ci tiene a darvi un'opportunità di acquistare vetture chilometro zero, soprattutto con delle piccole rate e una protezione assicurativa di primo livello. Qua parliamo di una Fiat Panda Cross Twin Air Turbo, start and stop, è un 4x4, questa è una macchina, è l'icona questa veramente, la Panda 4x4, a me piace, sai, l'ara, anche questo colore giallo particolare, prezzo di listino 20.437, voi direte, madonna, 20.500 euro per una Panda, questa li vale tutti, soltanto che da Carmeli non la pagate 20.500, ma solo 12.900 euro, uno sconto del 37% con la sottoscrizione del piano finanziario e l'assicurazione, l'assicurazione che fra l'altro vi dà anche il valore a nuovo in caso di furto. E non finisce qui caro Daniele, ora ci troviamo nel reparto Renault perché ovviamente come abbiamo detto già dall'inizio il gruppo Carmeli ha diverse divisioni, allora da cosa iniziamo? Con questo colorino sgargiante? Io partirei da questa nuova Twingo che è un prodotto estremamente nuovo, particolare, benzina, 65 cavalli e come tutte le autovetture proposte dal gruppo Carmeli c'è l'offertona, autovettura che ha un prezzo di listino compresi gli accessori che tanto non vi racconto, non vi racconterò mai, andatevele a vedere su www.gruppocarmeli.com 15.675, l'offerta particolare è 12.400 euro, pensate che 12.400 euro vi danno la possibilità di avere incluso nel prezzo anche una polizza furto incendio, addirittura la casco e ben 5 anni di garanzia. Andiamo avanti perché qua c'è una chicca particolarissima che in questo momento sta facendo grande scalpore parliamo di una Renault Zoe, parliamo di un'autovettura completamente elettrica, un'autovettura che viene proposta pensate con gli incentivi e con incentivi e quant'altro da 29.660, praticamente pochi spiccioli prima dei 30.000 a 17.200 euro, da 30.000 a 17.200 euro, l'auto del futuro, l'auto completamente elettrica, chiaramente escluso messa in strada e IPT. Mi raccomando, questa è l'auto dei vostri sogni. Andiamo a parlare, ce la fai a seguirmi? Passiamo qua nello stretto, faccio un po' il gambero ma andiamo a parlare della macchina iconica di casa Renault, parliamo delle SPAS, 7 posti, questa è la versione DCI, 160 cavalli EDC EDC se non ricordo male è il cambio automatico a doppia frizione, vettura da 46.850 con tutti gli equipaggiamenti che vedete, un'autovettura chiaramente 7 posti, proposta anche lei con un sistema di finanziamento particolare che include furto incendio, la casco e 5 anni di garanzia a 38.400, da 46.850 a 38.400. Volevo chiudere con una vettura particolare di questa casa automobilistica francese, estremamente iconica anche lei, una Megane Berlina, la versione Dual Blue DCI 115 cavalli EDC, EDC sembra il cambio automatico dopo la frizione, pensate da 28.450, compresi gli accessori che potete vedere sul sito chiaramente, offerta a solo 21.900 euro con le proposte finanziarie di Renault che vi danno diritto ad avere il furto incendio, casco e fino a 5 anni di garanzia. Siamo nel reparto Dacia signori, questo è un reparto particolare per chi sta cercando il miglior rapporto qualità prezzo, sta cercando l'essenziale, sta cercando la vettura da utilizzare con dei criteri di assoluta qualità però con un prezzo assolutamente ragionevole. Pensate, Loggi, Tecno Road, Blue DCI 115 cavalli, 7 posti, 7 posti proposta a, il prezzo non ve lo dico, vi dico soltanto che tramite le formule di finanziamento particolari di Dacia potete pagarla con 5 euro al giorno, a partire da 5 euro al giorno voi potete avere la possibilità di portarvi a casa questa autovettura estremamente particolare. Volete sapere il listino? 17.350 con la possibilità di avere tramite il finanziamento un'estensione di garanzia fino a 5 anni, pensate. Non è soltanto vetture per la famiglia ma anche vetture un po' particolari, questa è una sorta di crossover trasversale, 13.500 il prezzo di listino qua addirittura l'offerta finanziaria vi dà la possibilità di portarvela a casa con soli 3 euro al giorno 3 euro al giorno, il costo di un caffè e mezzo via, vi potete portare questa vettura a casa che è assolutamente eccezionale. Logan, qui parliamo di un'autovettura familiare con le caratteristiche che possono andare bene sia per chi la utilizza per la famiglia ma anche per chi la utilizza per lavoro perché ha un bagagliaio pazzesco. Prezzo di listino 15.700 attraverso l'offerta, 4 euro al giorno, cappucce e brioche al giorno vi portate a casa questa autovettura tramite questo servizio di assistenza particolare, finanziaria che viene proposta direttamente dalla casa automobilistica con questa assistenza non stop che prevede fra l'altro per tutte quelle che vi ho presentato oltre a questa estensione di garanzia 5 anni o 100.000 km anche una formula particolare assicurativa inclusa nel prezzo con furto incendio, atti vandalici, eventi naturali eccetera 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 chiedete ai consulenti. Qui abbiamo la Duster, la nuova Duster Tecno Road, 4 ruote per 2 metto a questa parte così lo leggo meglio. È un Blue DCI, questa è un'autovettura che ha un prezzo di listino di 19.400 euro a partire da 5 euro al giorno per avere questa formula finanziaria che vi permette di portarvela a casa con un esborso minimo. Mi raccomando se stai cercando l'autovettura per te, per la tua famiglia, per il tempo libero, anche per il lavoro e voi soprattutto considerare quello che è la qualità, il rapporto prezzo qualità corretto, l'essenziale questo sicuramente è il marchio che fa per te. Non perdere tempo, vieni qui nella sede di San Zeno a vedere queste bellissime Dacia. Dove mi trovo adesso? Sempre in via Armando Diaz, siamo sempre a San Zeno Naviglio, siamo da Autospazio che è il centro di raccolta delle autovetture d'occasione del gruppo Carmeli. Qua potete trovare una selezione vastissima di prodotto, circa 300 autovetture, mi stavo dicendo responsabili, che sono chiaramente dislocate in tutte le sedi, ma questo diciamo che è il collettore dove potete trovare, vedere, toccare con mano e provare tutte le autovetture usate del gruppo. Due esempi su tutte, qua abbiamo una Mini, è una Mini 1.5 One Diesel Hype Klebman, la versione, è un'autovettura che ha percorso solo 45.000 km, viene data chiaramente con 12 mesi di garanzia, ha un prezzo estremamente particolare di 17.500 ed è un prezzo che si è andato a vedere sui marketplace e sicuramente nei primissimi posti. Chiaramente tutte le autovetture sono state ricondizionate per poter offrire una garanzia come questa. Qui invece abbiamo una Peugeot 2008, una 1.2 Porteco 82 cavalli Start & Stop Active, vettura che ha percorso, pensate, solo 3.700 km, autovettura immatricolata a gennaio 2019, chiaramente con garanzia ancora ufficiale di casa Peugeot, autovettura che ha una serie di accessori particolari che vi piacerebbe sapere, ma che io non vi dirò mai, neanche sotto tortura, perché dovete andare a vederveli su www.gruppocarmeli.com. Prezzo super speciale di questa autovettura, 12.800 euro, è un'autovettura che va bene anche per i neopatentati. Daniele, come passa in fretta il tempo quando ci si diverte. Esatto, è volato in maniera, puff, così, un secondo. Abbiamo presentato tante macchine, abbiamo presentato il gruppo Carmeli perché meritava il giusto risalto, questa bellissima realtà a San Zeno Naviglio. Ci rimane che salutare, io devo ringraziarti per tutta l'assistenza. Ti ringrazio io, caro Daniele, salutiamo e ringraziamo tutti gli amici che hanno seguito la nostra trasmissione. Mi raccomando, vi resta soltanto di venire qui da Gruppo Carmeli. Vi aspettano numerosissimi, mi raccomando. Alla prossima, ciao Daniele.